Amici, stiamo per raggiungere la garzonera, eccola in fondo la fisch, guardate che spettacolo, qui la trincea supera i 60 cm abbondantemente, arriva il cambio. Come potete vedere, là c'è la bandiera, là il paletto dell'acqua, qui Gian che sta battendo, gli amici Roberto, Stefano, Giuseppe e Andrea e non c'è nessuna traccia, siamo i primi battitori, abbiamo già sforato le 6 ore di cammino, penso che questo sia il record, dei record. Un evento apocalittico, memorabile, super fantastico, ovviamente non bisogna avere il pretesto di essere a casa per le 7, chiariamo questa piccola faccenduola, eh, che cazzo, saluti a tutti, pota, gnavi!